Buonasera e benvenuti in questo nuovo tutorial fatto apposta per voi. In questo tutorial vi insegnerò come scaricare ed installare Pokémon Firehash. È una cosa che mi è stata richiesta da molti di voi ed è una cosa tranquilli, molto semplice, è una cosa estremamente semplice ma che vi farò vedere passo passo per coloro che magari non sono riusciti a farlo o hanno avuto qualche problema. Detto ciò, allora siamo sulla pagina del mio canale, ok, siamo qui. Potete partire da qui, potete partire dal link che vi lascio in descrizione. In tutte le puntate di Pokémon Firehash troverete il link per il download di Pokémon Firehash e vi ricordo che questa cosa vale solamente per il PC, non vale per il cellulare perché per il mobile, in generale se volete giocarlo da mobile, dovete fare tutta una serie di altre cose che non vi so spiegare in questo video perché quelle sì che sono molto più lunghe, dovete scaricare un emulatore apposta per il cellulare, poi dovete scaricare altri tipo 2 pull-in, poi dovete scaricare il programma che vi fa aprire i file zippati sul cellulare, insomma tutte cose in più. Mentre sul computer è una cosa molto più semplice. Detto ciò, passo 1, siete sul mio canale, oppure su uno dei miei video, oppure su questo stesso video che state ascoltando, andate a prendere il link che trovate ora in descrizione. Io ando a prendere l'ultimo video che ho caricato in questo momento, ecco qui, andate nel primo commento, come vedete, oppure direttamente in descrizione, e troverete in entrambi i casi questo link, vedete, download Pokémon Firehash, è disponibile solo nell'inglese, cliccate su questo link oppure nel primo commento, stessa cosa, download Pokémon Firehash è disponibile solo nell'inglese. Andate a cliccare su questo link, firehash.webnode.page.com download e vi si aprirà questa pagina. Qui trovate la versione più recente, questa version 3.2, che è quella che sto usando io. Più in basso trovate le versioni più vecchie, 3.1, 3.0, eccetera, eccetera. Io quando ho dovuto giocare una versione più vecchia per via di quel bug dei ponti, su cui non si poteva attraversare, che non potevano essere attraversati, ho scaricato la versione 3.0. Quindi attenzione se vorrete fare anche voi questa cosa, se anche voi avete quel bug, basta ritornare qui, questa è la pagina che è sempre attiva, e potete scaricare una versione precedente. Attenzione però che qui vi dicono che i salvataggi dalla versione 2.28 in giù non funzioneranno sulle versioni dalle 3.0 in su, quindi dalla 3.0 in su da qui, vedete, non potete andare più in giù, perché i salvataggi non funzioneranno, mentre io ho potuto trasferire il mio salvataggio dalla 3.2 alla 3.0 e viceversa, superando quella parte in cui appunto non potevo andare avanti per via di quel bug del ponte. Però non potete andare più indietro, come se voi iniziate a giocare nelle versioni più indietro, non potete poi trasferire il salvataggio alle versioni successive. Dalla 2.28 alla 3.0 non si può fare, ok? Bene, voi supponiamo che vogliate scaricare la versione più recente, quindi la 3.2, ci cliccate sopra. Si aprirà una pagina di mega, voi lo scaricherete qui, ok? Fate scarica. Vediamo se ci sono delle opzioni in più, si download standard lo scarica con l'app del desktop. Potete fare tranquillamente download standard. Lo scaricherà, sono a 344 MB, ok? Lui va, scarica tranquillo e quando ha finito, ora vi faccio vedere subito, non appena finisce. Qui abbiamo il nostro file, Pokémon Firehash 3.2, creiamo una cartella, ok, la chiamerò Firehash 3.2, perché ho già il gioco sul desktop, ho già tutto e lo mettiamo qui dentro. Ok, siamo nella cartella, che ho chiamato Firehash 3.2, ma potete chiamarla come volete, e qui dentro fate tasto destro sul file, estrai qui, dovrebbe essere, ecco qua, winrar, estrai qui, ok? Non fate estrai tutto, che poi vi chiede altre cose, fate estrai qui, tanto lo volete estrarre qui, e lui automaticamente estrarrà il file, o meglio tutti i file che ci sono nello zip, nell'archivio. A questo punto potete eliminare l'archivio, una volta che ha estratto tutto. Se non sapete come estrarre, semplicemente dovete scaricarvi un winrar, o un programma qualsiasi, per aprire il file zip, o meglio, per decomprimere il file zip, potete appunto cancellare questo, e avrete la cartella come un gioco. Questa cartella poi voi la potete prendere, questa cartella game, e la potete spostare dove volete, sul desktop, in un'altra vostra cartella, dove vi pare. Per giocare vi basterà entrare, aprire il file game, che è l'unico con scritto applicazione, vedete, è l'unica applicazione che c'è, e per andare a toccare i salvataggi, dovete aprire la cartella save files. Qui come vedete non c'è nulla, perché io ho scaricato un altro gioco, tecnicamente. Come vedete non c'è bisogno di alcun emulatore, voi cliccate su game, e il gioco parte. Vedete? Ora partete con un volume molto alto. E qui possiamo fare il new game. Ora io chiuderò subito. Ecco fatto. Per farvi vedere che appunto funzionava tutto. Il save files, qui non c'è ancora perché non l'ho ancora salvato, ma quando voi salverete, i vostri file compariranno qui. Nel caso in cui vogliate trasferire i salvataggi, vi basterà prendere il salvataggio che volete da qui, tagliarlo e incollarlo in un'altra versione del gioco. Andrete in un'altra cartella che sarà uguale a questa, e lo incollerete nei save files di quella cartella. Detto ciò, fatemi sapere appunto se avete domande nei commenti, lasciate una domanda nei commenti, lasciate un bel mi piace al video se lo avete credito, ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Gratualsphere è tutto, al prossimo video!